Ciao a tutti ragazzi e ragazze, è un po' che non ci vediamo, lo so, però non so se vi ricordate vi ho detto che avevo preso una brutta distorsione in palestra alla caviglia e mi ha abbattuto parecchio anche il fatto di non potermi vestire come mi piaceva, ho dovuto portare per un mese intero scarpe da ginnastica con un tutore a quattro bande forti vicino alla caviglia, è stato un incubo da lunedì ho iniziato a portare una fascia elastica, quindi ho tolto le scarpe da ginnastica quindi video outfit, allora sto per uscire, sono le 5 e mezza, devo fare un giro per la città, per la tesi e quindi sono vestita abbastanza comoda, il tempo è grigio però temperatura media quindi sono abbastanza leggera però porterò una giacca, allora iniziamo dagli accessori prima di tutto ho messo questo, come si chiama, quarzo rosa un po' grezzo no, grezzo, no, un po' grezzo poi ho questi orecchini su rosa, perché se no ho visto l'oltre rosa non so se vi è notato, fino a qua forse sì ho un anello con le perline e ho legato i capelli su con delle mollettine rosa perché volevo far vedere bene gli orecchini e come trucco non c'ho niente, ho soltanto abbondante mascara sulle ciglia e un rossetto nude rosato, comunque gironsolando, tira un po' di vento se i miei capelli vanno sopra non mi ritrovo con le strisciate la maglia che ho deciso di indossare è in questo rosa fucsia con questa specie di, non so come spiegarlo riprendi fiocco o qualcosa del genere è in fucsia, ha le maniche quasi a tre quarti però sono larghe ha un bello scollo, abbastanza profondo quindi la pollana ci stava bene, bella grossa così riempiva il vuoto, tra virgolette ha un riportino bianco per riprendere questo accessore, non so come chiamarlo è abbastanza lunga arriva, l'ho un po' arrotolata però comunque l'ho fatta arrivare proprio sopra il sedere ha questa banda bianca giù ho messo dei jeans neri stretti e ai piedi ho messo delle ballerine si vede la fascia elastica per la caviglia ho messo delle ballerine cipriate come borso ho deciso di indossare questa abbastanza grande, enorme rosa metallizzata che viene abbastanza grande è comoda, visto che devo gironsolare prendere degli appunti o un bloc nodo per poter scrivere, quindi è comoda come giacca ho deciso di indossare questa in velluto abbastanza leggero fucsia simile alla maglia con tagli tipo giacca di jeans perché c'è pure bottoncini così, tipo jeans è fucsia abbastanza semplice a me piace parecchio ce l'ho da tanti anni la metto poche volte all'anno perché comunque è un tessuto per quanto sono freddolosa io riesco a mettere poco però visto che la giornata sembra promettere bene ho deciso di indossarla quindi questo è il look completo spero di andare comoda cosa simpatica che la giacca fa uscire il bordino della maglia è carino mi piace ok, io scendo vado a fare i miei servizi e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazze ce la posso fare oggi? i gamba un bel giorno un bel giorno un bel giorno